musica 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 non condividi i vostri metodi però apprezzo la vostra capacità organizzativa eh grazie al mio defunto marito e defunto e cos'è questo? sssss e questo è chi emo? e io non posso aiutarti e ti parevo tu stai sempre stonata no oggi sto lucido solo che non so chi è è il marito della signora Elvira quello morto lei sostiene che sia morto ma in realtà voci di corridoio dicono che che? ma secondo lei perchè la signora Elvira dice di essere vedova? non solo dice di essere vedova lascia anche intendere di essere stata lei ad aver uccisi il marito se è vivo perchè lo spaccia per morto perchè non può esistere uno meglio di dire a fare le truffe e quindi preferisci pensarlo morto Todi in questo episodio ti sto rivalutando e invece mi dico che questa volta neanche la vista del sangue mi fa svenire capito? Elvira mamma mia mamma mia mi devi dare almeno l'ottanta per cento di acconto ottanta per cento? e vado bancomatto e torno brava veramente brava e così l'allievo ha superato il suo maestro Pinuccio si Elvira sono il tuo Pinuccio ma se il marito della signora Elvira non è morto mh quanto vuol dire che è vivo? ma la signora Elvira è proprio vostro in che senso? nel senso che è vostro sei stato chiarissimo ma mo che succede? ma che ne so e allora io continuo a fare le mie polizie eh se ci dovesse essere novità mamma mia ando parla a puntata se dovessero esserci novità ti chiami ti preoccupa Geppi ma se ci dovessero essere novità tu lo chiami veramente? ma sei scema grande menzogna oh ma nelle menzogne Geppi sei tu o mostra più 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 abbia noi Ma com'è possibile che ti perdo sempre? Che bello vederti così appisolato come un angioletto, sopra il bancariello di Elvira. Sì, aspetta, adesso ti immortalo, mica capita ogni giorno. Poi questo è il posto di comando e responsabilità. Cheese! Brava, così. Dottor Merolla, continua a darmi fastidio anche adesso che non è in ospedale. È tutta invidia, dottor Gargiullo. Ma invidia per cosa? Sa, io mi sono avvicinata a dottor Merolla in questo periodo, ma continuava a parlare di lei. Ma che bello l'amore, vero amo. Dottoressa De Stefano, prenda quel narcolessico del suo fidanzato e vada a fare quello per cui è stata scelta. Specializzarsi! Narcolessico, andiamo. Narcolessico. Quando usa questo linguaggio medico mi si accappona la pelle, dottore. Ho un'idea. Perché non andiamo nella stanza del reposo? Ho cinque minuti liberi. Perché dalle 15 alle 16 sono in ginecologia, dalle 16 alle 17 sono in pediatria, dalle 20 alle 21 sono in neurologia, dalle 21 alle 22 sono nel laboratorio, dalle 22 alle 23 sono nella sala mortale. Ma dov'è? Ha fatto bene la signora Elvira a suo tempo a far sparire il marito. O con me, o con nessuna. Miserie non può morire! Dottor Gargiulo! Dottor Gargiulo! Mamma mia, tu dici che niente di meno da quando stiamo in liquidazione per diventare supermercato, pure i biglietti di bagheg sono cambiato, non sono più gli stessi, senti qua. Non ti ho mai dimenticata, dimenticato con la T, ignorante, sei stata sempre il mio primo primo d'imm. Questo secondo me si è fermato all'elementare. Il mio primo amore, tuo Pinuccio. Ah, tu dici che capite niente. Lei l'aiuto. Pinuccio, il marito della signora Elvira ha scritto la... che bella lettera d'amore che avete scritto. Negeppino. Veramente mi chiamerei Geppi? Ma per voi faccio un'eccezione, Geppino fa bene lo stesso. Elvira non mi vuole più. Ah, e forse perché non ha ancora superato lo schianto del ritrovamento. Io non l'avrei mai saputo che ero vivo. Ah sì? E allora forse... E se vi, ma sapete, se l'asportazione della cistifelia eri in sala operatorio tre o quattro? No, perché secondo me già... adesso è già da darci una sbagliata... Buongiorno. Eh, buongiorno, dottore. Eh, dottore è una parola grossa. Comunque la ringrazio. Dove ce vede? Eh, dottor Micillo, vi presento Pinuccio, il marito della signora Elvira. Ehi, morto! C'è l'ex morto e come si si tende da risuscitati? Pieni di energie, ho i da sfogare addosso a qualcuno. Mmh. A caso. E vieni, e all'uopo c'è il buon Todisco, il punch bowl dell'ospedale, vero Todisco? È stata lei a cacciarmi e a mandarmi via. Ma come? Mi preparò la busta dell'immondizia con tutti i miei panni dentro. La busta dell'immondizia? Beh, in segno di disprezzo. No, 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 signor. Io viaggio sempre con i miei panni dentro la busta dell'immondizia. È più comodo. Comodo a fa' che? La differenziata? Ma la differenziata. Io metto tutte nella stessa busta. Mutante, calzine, cannottie. E fate bene, perché quelli prima ci fanno fare la differenziata. E poi hanno tutti due stessi cavi. E dito, dottor Micillo, la differenziata va fatta. È una questione di civiltà. Eh, scusate, ma stiamo parlando della mia valigia, ora munnezza, munnezza. Ha ragione, è andato a fare di Giampino, non interrompere. Prego, signor Pinuccio. È un giusto che sta facendo interessato. A che stavo? A quando la signora Elvira aveva cacciato cosa che tra... Pardon, con la valigia dell'immondizia. Ah, sì. Ricordo ancora le sue ultime parole. Ho bisogno dei miei spazi. No. Va e non voltarti indietro. No. Mi disse solo... O vedi questo grigio? Se non te ne vai tu, scassi ancora. È nel suo stile. Sì. Ma adesso mi dovete aiutare. Chi è? Sì. Signor Elvira, qual è il piano? Eliminare il parassita. Il parassita? Il parassita, dottore, il parassita. Bravo, ha capito pure lui. Come ti chiami? Signor Elvira, sono il cugino di Geppi. Sono quattro mesi che faccio il vostro correre. Ancora non vi ricordate il mio nome? Ma se tu cambi il nome ogni minuto e quarta d'ora. Questione di sicurezza. L'altro ieri si chiamava Sasà. Ho capito. Oggi chiamatemi Francesco. Francesco, sì, mi piace, mi piace. Se piace la visione stiamo a posto. Comunque il parassita. È il mio amare. Il mio ex, ma... Ma come non ce la faccio proprio? Non ce la faccio. E quindi? E quindi io consegno. E se vi domandano, chiamatemi Francesco. Questione di sicurezza. Tanto va la gatta all'ardo. Che ci lascia lo scontrino. Capite, mamma mia? Lo scontrino? Sarà un fatto di finanza. E quindi? E quindi, se mi ridate i giochiali, io vi svelo l'arcano. Ve li posso fittare tutt'al più? Geppi amicillo. Geppi amicillo. Passaggio attraverso. Geppi amicillo. Ma mi stucosa. Non sono mai riuscito a capire come funziona. Gargiulo, come non porto a me cammello dove sta facendo su stalking? A parte che si dice stalking. E poi non mi sembra neanche la parola giusta. Io direi più mobbing. Sì, sì. Vado a cospargermi il capo di cenere. Eh, fate bene. La cenere è ottima. Per i capelli grassi. Signora Elvira, ma mica si va a fare lo shampoo? Ah no? No. Mera passata. Geppi amicillo. Geppi amicillo. Ma quando lo facciamo l'acquato? Ma che stai dicendo? Micillo, sono Elvira. Passo. Quale agquato passo? Ma che avete capito? Quello è il dottor Micillo. Pronto, dottor Micillo? Passaggio. Che avete trovato? Il guanto. Il care zoppa Mucugna. Il care zoppa Mucugna. Ma che ha detto? Niente. Ha detto così, ha detto che l'ha trovato lui. Il guanto. La sera, ma che ci fate qua? Voi alle tre non avevate una prenotazione per una gastroscopia? Sì, ma me ne sono scappate. Me ne sono scappate? Sì. Mi cagano la mano. Ma che hanno la mano? Ma che dite? Che ci fate qua? Eh, volevo prenotarmi una biopsia. Ma il ristorante cinese, preparatemi due bottini primavera che mi porto a casa. Questo è un ospedale. Viene investito denaro pubblico. Voi vi prenotate e non vi presentate? Qua perdiamo tempo a denaro. Oh, soprattutto denaro. Sì, ma io vi ho pagato profumatamente l'avanzamento in lista d'attesa per la gastroscopia. Questo è vero. E allora vedete. Che vedete? Che devo vedere? Oggi è una giornata signora Rosaria, tornate più tardi. Io torno. Purtroppo lo so. Fingiamoci la biopsia alla signora Rosaria. Ecco qua. Signora Elvira. Ma, to disco. Non è giornata, ho detto. Vattene, sciò. Ma io volevo dire che... Non mi trovo, non mi trovo oggi. Amore mio. Uuutà! Così? Ricordavo il delicato. Sentite, ma io ancora non ho capito che cosa devo fare. Micillo, devi avvertirci nel caso in cui dovesse arrivare Elvira. D'accordo, ma come vi avverto? Ma come ci volete avvertire, dottor Micillo? Con un fischio. Ma no! Il fischio è una cosa banale. Direi piuttosto con il verso del papio del chilimangiano. E cioè? Ah, una scigna. Un papio. Che volgarità. Ma io direi che difficoltà. Comunque io la scimmia non la so fare. Mi viene bene il verso della foca. Volete vedere? Bravo. E allora vado per la foca. Ma che state dicendo? La foca, la scimmia, dove siamo? Allo zoo. Geppino ho capito. Ti avverto io. Con un colpo di tacco. Ma il fischio non andava bene. Siete, Geppi. Olessamente io non mi imbiccerei. E che fate? Vi tirate indietro? Ma chi da me? Ah! Che succede? No, non vi preoccupate. È che la dottoressa Visone ultimamente sta soffrendo di questo strano tic. Un tic. A me mi stava venendo un infarto. Infatti. Ma io poi mi chiedo. Una psicologa. Dovrebbe essere una persona equilibrata. Beh sì. In altri ospedali sì. Qua sarebbe spregata. Insomma vi sbrigate. Che io dalle 17 alle 17.30. Un appuntamento con il dottor Sibia al secondo piano. Un'ecografia? In un certo senso. Non ho capito. Non mi meraviglio. Comunque dottor Micil torniamo a noi. Noi ci dobbiamo impicciare. Perché l'amore deve trionfare. Ma guarda l'amore tra la signora Elvira e suo marito. Eh Geppi. Signora Elvira e amore. Sono due parole proprio incompatibili tra di loro. Senta me. Facciamoci questi altri quattro mesi in Santa Faccia e qua in ospedale. Lasciamo perdere. Oh io me ne vado. Serena. Cosa le dice di un aperitivo con me in rianimazione? Anche no. Geppi no. Eh. Io la penso come lei. Ah sì? L'amore deve trionfare. Brava. L'aiuterò io. Signora Elvira vi volevo dire quella... E che fastidio che mi stai dando. Che fastidio. Aspetta. Lauretta allora. Visto che noi siamo un ospedale di liquidazione è meglio che questa cosa la liquidiamo subito. Se no perdiamo soldo e danaro. Non sia mai. Eh. Signora Elvira io stavo pensando. Ma perché questa pensa pure. Beh. Scusate l'ignoranza ma non sono la stessa cosa. Ma che cosa? I soldi e il danaro eh non sono la stessa cosa. Geppino. Proprio io. Eh. Bra. Un po' ingenuo la ragazza. Un pochino. Vabbè. Dunque Lauretta cara. Mmh. Devi sapere che i soldi sono diciamo così più comuni. Gli appartengono alla gentucola. Sempre importante solo per carità. Mentre il danaro appartiene un po' alla gente più elevata. Più su. Entrambi acquistano lo stesso valore ma in base alla quantità. Chiaro? Siete proprio strani. Eh. Per la ragione Lauretta eh. Sei proprio strani. Signora Elvira. Mamma mia. Mi dite qua a farmi spiegare. Mamma mia mi stai abbassata due ore ma che vuoi ah sputa la rana. Il rospo. Il rospo si sputa no la rana. Lo so. Però già sputare è una cosa brutta. Pocaccia che la costa visita che buoni chiate. Invece la rana è chiatturele. Per è acconciurele. Signora Elvira cara. Sì. I vostri discorsi pur anche privi di senso a volte non fanno una grinza. Mamma mia mi so pezza che vuoi ah. Insomma volevo dire. Volevo dire. Ma ma com'è possibile che non sei geloso di me? E se io baciassi tu discò così? Ma che fa? Signora Elvira glielo dica a lei che la gelosia in amore ha la sua importanza. Ma che ne so io dell'amore? Ancora vuoi a quest'amore? Io un amore solo ciò. Il bancarì. Bravo e una parola dice bella, precisa e giusta. Fossero tutti così. Ma come? Proprio lei che da quando è tornato suo marito per me l'è diventata il simbolo dell'amore eterno. Lei che l'aspetta per anni come una rinnovata Penelope. Ma che? Non vengo da l'avesco? Il casco dottore. E lui impavido Ulisse che dopo tante difficoltà ritorna alla sua amata Itaca. Ma non mi traduce, non ho capito niente. E' una parola, ma mi sono perso pure io. Comunque prima kit mi pare di aver capito che a voi vi ha paragonato a uno che ha a che fare tipo con i panni vecchi, roba vecchia, i pezzi. Ma tipo Sancio sei proprio il suo piano? Ma roba vecchia, a giro i tresini. Ma come si permette? E invece il vostro ma, al vostro ex, insomma quello lì, l'ha paragonato a uno che viene stonato dalle sirene. Ma dell'ambulanza o dell'antifurco? Ma che ne so? Oh, vuoi mi dire che è felice che voi vi siete riappacificata con vostro marito? Riappacificata? 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 Io se lo incontro un'altra volta. Il pezzo più grande sarà l'orecchio. So! Dottoressa, la testa è, ma ci sono la culata al suo sole. Ah, mi sono dimenticato così di posillipo. Non si è mai visto che lei abbia fatto un bucato e il sole fosse sorto. Insomma, ma come faccio a convincerla a far pace col marito? Avrei un'idea. Approfittatene, non capita spesso. Ma che cos'è questa ciecampa? Che cos'è questo buio? Pure la luce ce la posta... Ma che succede qua? Signora Elvira, c'è una sorpresa per voi. Chi è? Io, il vostro posteggiatore per una sera. Assettate, va che va a farciare a creare. Quando mi dice sì, ti è da lamentare. Ma quello che dico io, no, ma con tante canzoni napoletane, tu proprio questa dovevi cantare. Ancora tu! Non dovevamo vederci più. Vuoi essere un abbattuto lo più fattuccello, Loria, andiamo avanti. Hai ragione. Eh, dai! Sì, Elvira, ancora io, il tuo pinuccio. Quello che un giorno ti portò sull'altà. Quello che un giorno? Rubò tutti i soldi dal mio conto corretto. Quello che un giorno ti portò in viaggio di nozze a Mercoglià. A Mercoglià. Zitto, posteggiatore, mi faccia sentire. Quello che un giorno ti fittò la cabina all'Icola per un mese intero. Quello che lo stesso giorno, quella stessa cabina all'Icola, me la fece sequestrare da Equitalia. Ah, ma che se sono stottigliezza? Sì. Quando vuole lui, tu steppi. Ma soprattutto, Elvira, quello che un giorno ti regalò due figli bellissimi. Due figli in un giorno solo? Che esagerazione! Ha ragione il posteggiatore, mi sembra un'esagerazione. Però, a proposito di esagerazioni, Finuccio, devo confessarti una cosa. Quei figli che tu, gentilmente, mi hai regalato, in realtà non sono due, ma tre. Perché quando tu andasti via, io ero già incinta. Pazzo, pazzo, cento volte, mille volte pazzo, ma io da te me lo dovevo aspettare. E così, Elvira, noi abbiamo tre figli. Sì, Lady Di, George Michael e Antonio. Antonio? Ehi, come bandera. Ah! Ma le sorprese non sono finite, Pinù. I figli sono tre, ma solo uno e chi li tre è figli a te. Posate la rosa. E voi posate la bottiglia. Non è vero, Elvira. E' vero, Pinù. E' vero. Mamma mia, come Filomena Marturana, mi è sempre piaciuto. Più di Natale in casa cupillo. Ehi, ma ne vuoi che rispetto per gli artisti? La rosa non sta artista. Ero virile. Basta, silenzio, andiamo avanti. E allora, e allora mi vuoi dire chi è? Chi è il mio figlio? Andrà a essere uguale tutti e tre. Rimane, ma manda a prendere roba mia. Statevi bene. Vi saluto a tutti quanti. Pure a voi, avvocati. I figli non si pagano. Ah, io non sono l'avvocato. Ah, e non va bene. Arronzare un monologo di questa portata. Quello ci sta tutta la parte della cento lire che è fondamentale della commedia. Non si fa. E io il biglietto non lo pago. A proposito, ma a me chi mi paga? Io non pago i figli miei, ma papà vado pure a te. Elvira. Elvira. E quindi i figli non sono tre? No, Antonio non esiste. Dicevo io, un nome troppo banale. No, che mi sono persa. Eh, dottoressa, vi sono come siete fatte, voi non avreste capito comunque niente. Ma poi com'è che vi è venuta l'ispirazione per Filomena Marturano? Eh, sto preparando una commedia per i filodrammatici in barrocchio. E quindi fate Filomena? No, faccio domenica. Ma si capisce perché avete arronzato il monologo finale. Perché non è parte vostra. E il vostro marito? Latitante. Appena ha saputo che ritornare con me significava tenersi il figlio di qualcun altro, subito se n'è andato. Speriamo che questa volta se n'è andato per sempre. Eh, ci pariamo. Certo, subito se l'è bevuto, eh, la bugia del terzo figlio. Eppure la bugia dell'illegittimità. E chi ha detto che le bugie erano due? In che senso? Nel senso che la bugia riguardava soltanto la presenza del terzo figlio. Stata va buona, a voga. Grazie. Grazie.